Cosa significa a fardellare? A fardellare significa sistemare l'occorrente, il necessario per portare il cavallo in campagna per un trek. Il trek è una cosa importante, può essere di bassa portata o di alta portata, l'importante è che il necessario sia sempre con noi, sia che il trek sia corto che sia lungo. L'importante è sellare bene il cavallo, prima di tutto avere una bardatura utile per il trek, dopodiché le bisacce, le bisacce dentro alle quali ci sarà l'occorrente e il necessario per il trek. Queste sono delle bisacce che si possono agganciare alla sella e ora le posizioniamo sulla nostra sella da trek, oppure ci sono delle altre bisacce che si possono portare dietro alla sella del cavallo. Queste bisacce hanno un contenuto importante come dicevamo per il trek, vanno agganciate alla nostra sella perché possono non infastidire, non devono assolutamente infastidire il movimento del cavallo e soprattutto non devono fregare su quello che è la cute, la groppa o la spalla del cavallo. Grazie a tutti!